La centralità della politica nelle scelte urbanistiche, nelle scelte del futuro di quello che sarà il disegno voluto dall'amministrazione comunale per Capandoli. Ne parliamo a Capandoli Notizie dalla città in compagnia dell'assessore all'urbanistica del comune di Capandoli, Giordano Del Chiaro. Buonasera a tutti. Ben trovato, assessore. Partiamo subito, sono diversi gli argomenti che possiamo trattare con l'assessore Del Chiaro che ha anche altre deleghe importanti, fra cui quella dei rifiuti che è sicuramente una per le quali Capandoli viene più spesso tirato in ballo per le conoscenze che avete acquisito in tutti questi anni. Io voglio partire però da quelle un pochino più interessanti per tutti gli abitanti che sono quelle relative all'urbanistica, perché l'amministrazione comunale di Capandoli ormai non solo da questo mandato ma già anche da quello prima aveva un'idea di quello che sarà Capandoli con il suo comune, le sue 40 frazioni da qui e nei prossimi anni. Il disegno è quello di non riversare una colata di cemento sulla piana e sulle nostre colline ma di andare attraverso un percorso, percorso anche a ostacoli perché la burocrazia è uno di questi, un percorso di recupero o perlomeno per tutto quello che si può fare, recupero di quanto c'è già in termini di volumetrie. Esatto, a Capandoli stiamo rinnovando gli strumenti urbanistici, abbiamo adottato il piano strutturale, siamo in fase di avvio del piano operativo che poi è il piano di dettaglio. Ecco, subito una domanda per far capire bene i nostri telespettatori. Il piano strutturale è quello che si disegna? Lo strumento di pianificazione generale, quello che detta le strategie generali e poi il piano operativo invece è quello di dettaglio che fotografa le singole situazioni e dà gli indirizzi per il futuro. Quindi per ogni zona c'è la sua operatività, la sua possibilità di mettere in atto il piano strutturale. Esatto. E la parola chiave dei nuovi piani urbanistici è quella di sviluppo sostenibile. Noi ci stiamo dando l'obiettivo di intanto ricuscire uno sviluppo disconnesso del territorio che c'è stato negli anni 60-70 e lo facciamo intanto andando a ridurre, a tutelare il consumo di suolo. Quindi no a nuova cementificazione ma allo stesso tempo diverse opportunità per chi comunque vuole fare interventi, vuole in particolar modo recuperare volumi, vuole recuperare grandi volumi, vuole appunto cambiare la destinazione di volumi che ci sono, fatiscenti, spesso nei centri abitati, spesso dove c'è anche un problema di convivenza tra il centro abitato e quindi le esigenze di un centro abitato, invece grandi volumi produttivi che una volta si costruivano nei centri abitati anziché in aree produttive e quindi ci sarà la possibilità di recuperare questi volumi e anche di spostarli, questa sarà la grande novità del nuovo piano operativo, di spostarli in aree invece dove le attività produttive possono stare e anzi è importante che stiano per lo sviluppo del territorio. Per chiarire comunque chi ha in programma una costruzione dove è stata concessa, chiaramente quella va avanti. Assolutamente sì, non solo ci saranno regole molto più elastiche per appunto convertire anche i piccoli manufatti che ci sono nei centri abitati, faccio l'esempio della capanna di corte piuttosto che della cascina, piuttosto che del manufatto che si trova in centro abitato, ci sarà la possibilità di convertirlo, di eventualmente demolirlo e ricostruirlo e anche adibirla a residenza e anche quindi avere quella opportunità in più che oggi è un po' più difficile da cogliere. Quindi quando si parla di sviluppo, si parla di sviluppo abitativo ma anche di sviluppo industriale e commerciale non nel centro abitato. Esatto, quindi sul primo lato si lavorerà molto, su quello produttivo si lavorerà molto sul recupero dei volumi esistenti, dal punto di vista residenziale invece ci sarà la possibilità di convertire quello che c'è, quello che c'è nei centri abitati e andare incontro anche a quelle che sono le esigenze abitative delle famiglie. Perché un dato importante che ci tengo a sottolineare è che Capannori ogni anno, nell'ultimo anno ha avuto 500 nuovi abitanti. quindi 500 persone che da fuori... Una sorta di attrazione, no? Esatto, quindi questo è sintomo di un territorio dove ci sono grandi aspettative da parte dei cittadini in termini di... Quindi è anche maggiore la responsabilità. Esatto, di servizi ma anche un territorio attrattivo perché 500 persone ogni anno da fuori Capannori si trasferiscono a vivere da noi. Assessore dell'Urbanistica è stato anche protagonista di un altro piano, il piano strutturale intercomunale. Perché? Perché una visione, soprattutto per quanto riguarda anche le infrastrutture, quelle più collegate alle amministrazioni locali perché poi in qualche maniera favoriscono il commercio, lo spostamento delle merci, tutto quello che è anche produzione, quindi economia, movimento del denaro. Avete fatto un lavoro importante a 360 gradi anche con altri comuni perché comunque sia, non è che il comune di Capannori ha un muro dove c'è il confine, si interseca con gli altri comuni e credo sia stato un lavoro importante proprio anche in virtù di quello che dicevamo prima, della prospettiva futura, quando si fanno le scelte condivise e poi aiutano a uno sviluppo più omogeneo. Esatto, la Piana di Lucca è un territorio unico e quindi abbiamo voluto sul piano quello generale, quello che dà le strategie che valgono per tutti, costruire le regole di una casa comune e quindi il piano lo abbiamo fatto insieme ai comuni di Alto Pascio, di Porcari e di Villa Basilica. Lì ci siamo dati delle regole appunto per tutti che hanno come primo obiettivo quello della salvaguardia del consumo di suolo, quello di valorizzare le tante aree verdi, di valore ambientale. Penso il comune di Capannori ha acquistato il lago della Ghirardesca non a caso. Certo, ne abbiamo parlato all'ultima puntata proprio con il sindaco. Esatto e quindi ecco da queste regole comuni poi ciascun territorio e quindi ciascun comune svilupperà il proprio piano di dettaglio. Non è l'argomento della puntata di oggi però anche quello che avete fatto sugli assi viari, cioè riuscire a fermare un progetto che non era probabilmente condiviso da tutti e far rimettere tutti intorno a un tavolo è stato un successo per l'amministrazione comunale di Capannori. Capannori dal 2014 ha una posizione chiara e quindi ha fatto tutta una serie di osservazioni, di proposte, di modifica su cui da anni si chiedeva di poter dialogare con il commissario Anas. E ora tutti però vengono a quel tavolo, anche quelli che prima dicevano che Capannori e questo dialogo finalmente si è aperto e ecco sta andando avanti. Abbiamo parlato di due degli argomenti che mi interessava toccare con l'assessore all'urbanistica e l'altro è quello che state facendo sul tema dei rifiuti, Capannori famoso in Europa per essere stato uno dei primi comuni ad avere la politica rifiuti zero, comune riciclone, comune che fa la raccolta differenziata da tantissimi anni, per quanto riguarda i rifiuti avete intercettato un importante finanziamento del PNRR e riguarda proprio uno stabilimento che potrebbe venire sul territorio di Capannori per il recupero dei rifiuti. A Capannori vogliamo davvero riuscire ad arrivare al 100% di raccolta differenziata. Ormai sappiamo che i rifiuti zero non è un miraggio ma è un obiettivo che abbiamo alla portata di mano. Siamo all'87% di raccolta differenziata e abbiamo visto una volta all'anno andiamo ad aprire all'isola ecologica il sacco grigio, quello del rifiuto non riciclabile e vediamo che lavoro ancora dobbiamo fare per raggiungere la meta zero. Ecco ci siamo accorti che per fare questo dobbiamo riuscire a riciclare i pannolini e i pannoloni e occorre perfezionare il riciclo dei vestiti, degli indumenti. Il tessile. Esatto, da qua la proposta di realizzare su Capannori, proposta che abbiamo fatto al PNRR, un impianto di riciclo dei pannolini e un impianto di selezione dei rifiuti tessili. Il ministero, il PNRR ci ha premiati con 15 milioni di euro che sono e stanno arrivando qua e quindi stiamo progettando la realizzazione a Capannori precisamente nell'area di Salanetti di questo stabilimento che ci consentirà di arrivare al 95% di raccolta differenziata. Sarà uno stabilimento, nel programma sicuramente nelle vostre richieste ci sarà questa domanda che servirà solo per il comune di Capannori e servirà anche per gli altri comuni e quindi diventa anche un investimento dal punto di vista del ritorno economico per il comune. Lo stabilimento verrà realizzato da Riti Ambiente in collaborazione con Asciti, in collaborazione col comune e sarà a servizio di tutti i comuni serviti da Riti Ambiente a partire ovviamente dai comuni che tutto questo, ecco, che l'impianto lo ospitano. Questo ci consentirà di dare un'ulteriore sterzata di riduzione delle tariffe dei rifiuti che sono già tra le più basse d'Italia. Quindi l'obiettivo rifiuti zero rimane uno degli obiettivi dell'amministrazione comunale di Capanno. Ricordiamo che, lo possiamo anche dire, non è un segreto, Giordano Del Chiaro è candidato alle prossime elezioni a sindaco dove non ci sarà invece candidato Luca Menezini che ha già fatto due mandati. Per lei personalmente in questo caso l'obiettivo rifiuti rimane un punto fondamentale anche nella sua campagna elettorale, non stiamo facendo campagna elettorale, stiamo parlando della prospettiva per Capanno. Nel 2007 ci siamo dati un grande progetto che è appunto quello di rifiuti zero. Oggi questo progetto non è più soltanto il progetto della nostra comunità ma è diventato un progetto di tutti, è diventato addirittura un progetto europeo perché l'Europa, la Commissione Europea ci ha inserito, ci ha premiato tra le 12 città pilota sui temi dell'economia circolare. La giornata rifiuti zero è diventata una giornata mondiale, quindi quell'obiettivo che è nato da Capannori, che è stato sposato da tutti i cittadini, a cui sono sicuro che nessun capannorese ad oggi rinuncerebbe, è un piccolo pezzo di orgoglio che poi abbiamo esportato anche fuori da Capannori. Nel 2007 ad oggi le nuove generazioni attraversano anche il lavoro nelle scuole, la sensibilizzazione verso il rifiuto sta portando dei grandi vantaggi, anche quel lavoro che avete fatto che non era solo quello nelle famiglie ma nei bambini per portarli ad avere una coscienza civile diversa da quella che c'era, che non era mancanza di educazione, era che noi per esempio della mia generazione abbiamo vissuto sempre il rifiuto si butta nel cestino ma non si pensa minimamente al riciclo, invece tanto lavoro è stato fatto nelle scuole e oggi vedo i ragazzi che sono i primi a andare dai genitori o dai nonni un po' più anziani a dire questo va qui, questo va là. I bimbi grazie ad un grande lavoro che viene fatto nelle scuole spesso sono i primi che insegnano i genitori ai nonni o che li correggono quando la raccolta non è fatta alla perfezione e quindi questa è una grande soddisfazione non solo di una nuova generazione che va avanti dandosi degli obiettivi diversi dalle generazioni precedenti ma è soprattutto quello di un messaggio di un grande progetto che è passato e a cui ripeto oggi nessun capannorese vorrebbe rinunciare. Assessore ci sono anche delle spine e una spina che avete nel fianco è quella dell'inquinamento, la piana di Lucca e quindi Capannori con la sua centralità è una, l'abbiamo visto anche dalle ultime analisi dell'ESA, è l'unica in Italia che assomiglia un po' a certe zone della pianura padana dove ci sono così tanti sforamenti di PM10 ma non solo, non voglio parlare solo di PM10 ma di inquinamento in generale. Quali sono i nodi sul tavolo da sciogliere, i problemi più grandi e cosa avete in programma di fare? Quando si parla di polveri sottili, quando si parla di inquinamento da PM10 intanto si parla della salute di tutti e quindi questa è la più grande urgenza che come piana di Lucca che anche come territorio di Capannori abbiamo da affrontare. Consapevoli che il tema è complesso, è complesso perché intanto non ha una causa unica e che non si risolve con uno schiocco di dita, quindi è un tema su cui ci sono più cause e su cui servono almeno 10 anni di lavoro, di interventi e quindi anche di finanziamenti che noi vogliamo che arrivino nella piana di Lucca perché senza finanziamenti un tema così complesso non lo affrontiamo e quindi il comparto della mobilità su cui è urgente intervenire, il comparto dell'efficientamento energetico degli edifici, quindi del riscaldamento su cui si richiede appunto un intervento e su cui ci sono anche diversi finanziamenti regionali che in questo momento consentono ai cittadini di poter ecoprogrammare degli interventi nelle proprie case. Tutto per i caminetti perché quello dei caminetti era un lavoro che già avevate fatto per la chiusura e l'efficientamento, ora la regione toscana ha fatto un bando per chi chiude un caminetto in casa c'è un finanziamento addirittura simile al super bonus per i pannelli solari o comunque per l'efficientamento energetico, quindi è una proiezione anche verso il futuro. Sì perché poi quel finanziamento dà la possibilità anche di installare pannelli fotovoltaici, finanziamento fino a 12 mila euro, quindi cominciano ad essere cifre interessanti per installare pannelli fotovoltaici sul tetto di casa, per installare pompe di calore, comunque ecco un percorso che mi immagino ciascuno di noi sta già provando a fare nelle nostre case e su cui c'è bisogno anche di un aiuto, di un aiuto pubblico per avere quella marcia in più. Quindi la risposta è tanti problemi, tante soluzioni, non c'è un tasto che si spenge e finito quello e finito il problema, tipo spingiamo tutti i camminetti fino al problema dello smog, non è così? Sicuramente però qua sta anche alle amministrazioni con serietà programmare gli interventi dei prossimi 10 anni insieme ai cittadini e quindi se seriamente affrontiamo il problema andando a toccare tutte le cause che lo provocano, io credo che tra 10 anni potremmo vivere in una piana di Lucca, in un territorio di Capandoli, non solo bellissimo come oggi ma anche con un'aria pulita. Ricordiamo naturalmente che anche la conformazione orografica del nostro territorio impedisce ai venti di ripulire come magari da altre parti, non è che sono qui tutti concentrati quelli che inquinano, è anche che siamo in questa conca bellissima che ci dà per esempio l'acqua perché poi c'è anche il problema acqua, problema che va risolto a breve perché le utility saranno da qui ai prossimi anni il punto focale delle politiche di tutte le amministrazioni e Capandoli in questo senso ha già fatto un passo avanti perché ha già deciso cosa farà con acqua. Assolutamente sì, Capandoli in realtà cosa fare con l'acqua ce l'hanno detto i cittadini nel 2011 con un referendum nazionale dove ci hanno detto che l'acqua deve essere pubblica. Capandoli vuole che l'acqua sia un bene pubblico, vuole che le società che gestiscono l'acqua siano società pubbliche, il lavoro che stiamo facendo con la via dell'acqua, con le fontane C'è arrivato perché poi la presenza dell'assessore qui, state lavorando su altre fontane nuove per far diventare la via dell'acqua veramente un gioiello che tutti ci invidiano perché io vado a prendere l'acqua alle fontane, fontane e fontanelli e vedo che vengono da tutti i comuni e da tutte le province. Esatto, stiamo ad aprile, inaugureremo la sedicesima fontana, la sedicesima polla pubblica controllata, gratuita, di qualità che il comune mette a disposizione dei cittadini, sono in corso i lavori a San Pietro a Marciliano, ovviamente le polle sono in zona collinare, sono in zona pede collinare, sulla parte pianeggianti abbiamo invece in collaborazione con acque i fontanelli, che oggi sono tre, a lunata tra pochi giorni inaugureremo il quarto e quindi davvero 20 punti di erogazione sul territorio di acqua gratuita e questo è il miglior modo per avvicinare un bene così prezioso ai cittadini. Grazie all'assessore, all'urbanistica Giordano Del Chiaro, un boccalupo per il suo futuro, naturalmente Capandoli, notizie della città, nata dalla collaborazione anche dei nostri tecnici in regia Marco Cervelli e Matteo Bedini, torna puntuale la prossima settimana. Grazie a tutti!